Stefano Carina, Andrea Tesei Stefano, sei reduce da un infortunio, come va adesso? Ma sì, dai, abbastanza bene praticamente sto recuperando un po' la botta il problemino è che ho una lesione di 4 cm su questo muscolo qui e per fortuna sono riuscito piano piano a recuperare con un po' di trattamenti, di piscina, esercizi e adesso vediamo un po' come andrà un tempismo perfetto proprio senti, ci racconti un attimo che cosa è successo e niente, praticamente il giorno delle regate di prova circa 15 giorni fa per evitare un brasiliano scufiato ho fatto una manovra un po' azzardata abbiamo strambato veloce, ci siamo incastrati in un'onda e praticamente dallo strap sono finito oltre l'attacco delle sarti e sbattendo con le gambe è un po' una botta secca dura la vita del timoniere, vero Andrea? è dura, dura di solito siete voi che fate effetto cataputa e invece in questo caso stavolta si sa molto bene stavolta si sa molto bene stavolta si è simbato io dai soccorso, sì ovviamente si, si ho fatto in modo che tornassimo a terra senti, ieri ti vedevo appunto che sistemavi a barca però insomma, siete pronti, siete preparati, siete tranquilli sì, sì, assolutamente venite da un anno di allenamenti molto intensi quindi daremo il massimo cercando di riuscire a piegare questa gamma insomma, faremo il massimo benissimo, buon proseguimento grazie grazie a voi grazie